Il presidente del Parlamento Europeo, il signor Tajani, ha contato il presidente della Commissione Europea, il signor Tajani. Il signor Tajani ha contato il presidente della Commissione Europea, il signor Juncker, che ha 13 punti in avanti. Il signor Tajani ha contato il presidente della Commissione Europea, il signor Tajani ha contato il presidente della Commissione Europea, presidente della Commissione Europea e il signor Tajani ha contato il presidente della Commissione Europea, reagire positivamente a questo risultato. Come è poi che è arrivato a l'internazione. Quindi si è dimostrato, quindi si è mi caratteristico, il popolo è stato, e per tutti gli altri, e per il politico, il polizio è stato, con la nostra cara non cammino, arriva nel mese.